Buon pomeriggio e ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città. Ricomincia la settimana, vediamo allora che cosa ci riserva questo lunedì sera, cominciando con la musica classica come sempre. Questa sera vi proponiamo un concerto con brani di Ludwig van Beethoven al Centro Congressi Unione Industriale di Torino alle ore 21.15, ascolti collegati a filmati tratti dalle più celebre opere del compositore tedesco. Passiamo al cinema, The Cool School, regia di Morgan Neville, un film del 2008, la versione originale sottotitolata in italiano, sono sempre nell'ambito della rassegna sulle strade della California, e organizzata in corrispondenza con la mostra su McCracken al Castello di Rivoli alle ore 18.15, il film questa sera al Cinema Massimo. In sala 3 e finiamo con un appuntamento teatrale un po' particolare, che però è ormai una tradizione perché si tiene ogni anno alla casa circondariale Lorusso e Cotugno, uno spettacolo che prevede una collaborazione tra detenuti e attori professionisti, diretto come sempre dal regista Claudio Montagna. Quest'anno si intitola lo scimmione e la tartaruga, una parabola di origine africana, racconta un paradosso, una tartaruga più volte derubata da una scimmia decide di chiedere le spiegazioni e la invita a pranzo alle ore 21.00. Per quest'oggi è tutto, io ringrazio Paolo Mosso, ci vediamo domani alle 16.15, vi auguro una buona serata.